Oggi qua alla Camera dei Deputati per presentare questo film a parlare appunto di Sulcis. Come immaginare una soluzione dei problemi che gravitano intorno a questa fabbrica, a questo territorio? La fabbrica essendo la Alcoa, lo smelta dell'Alcoa, noi sono tre mesi che stiamo lavorando molto per trovare una soluzione che è la più semplice e immaginabile, quella di cercare un imprenditore serio, credibile, che sia in grado di far ripartire lo smelter, che sia in grado attraverso la produzione di alluminio fatta in condizioni sostenibili dal punto di vista sia economico che ambientale, che sia in grado di rimettere appunto gli operai al lavoro. Stiamo lavorando moltissimo su questo punto, siamo in una fase di trattativa in cui mi auguro che si possa arrivare a una soluzione positiva. È troppo presto per dirlo, è comunque almeno un augurio. Qualcosa c'è e noi ci stiamo lavorando duro.